Mia mamma mi ha sempre detto che se la casa dovesse andare a fuoco io mi salverei di sicuro. Mi piace conoscere sempre gente nuova, visitare posti nuovi e una volta laureata ho deciso di partire e sono andata a Bruxelles. Ero curiosa di conoscere una nuova realtà, di imparare una nuova lingua e appena sono arrivata ho trovato subito un lavoro. Ero responsabile della comunicazione per un artista francese che costruiva opere, sculture che funzionavano attraverso l'energia solare. Durante questa esperienza ho capito che lavorare nel campo della comunicazione mi piaceva. Dopo qualche mese ho fatto un altro colloquio per Bayer e è andato bene ma il contratto prevedeva di stare via diversi anni e motivo per il quale mi sono detta hai voglia veramente di rimanere qui o vuoi provare a tornare a casa? Ho scelto Parma perché era lì che volevo costruire il mio futuro, poi era appena nata la mia nipotina Margherita e mi son detta non puoi non tornare proprio adesso. Tornassi indietro io questa scelta sì la rifarei perché io in Parma ci credo. Grazie per la visione!